ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi ok ragazzi si 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 ok ragazzi partita iniziata vediamo se abbiamo primi o secondi anche se io ho il terzo pezzo della copper basta che ho le mie gocci ok sto cominciando a aprire una cassa se c'è un boiler ce ne andiamo subito lo fermino ancora un pochino se vuoi te lo metri chiusi basta mettere solo è un grande mio amico no di lui è finito ragazzi è un tutto l'altro è finito dicimi come si è iniziato mi ha sbagliato ragazzi faccio un padio sono sono tutti questi pioggia fa poco ora si un pochino un pochino un pochino un pochino ok ok ragazzi siamo in terza posizione si vedete è sopra la finestra con mio amico pensando su Sandro adesso non è che mi confordo con l'altro non non allora vediamoci ne perché c'è un non c'è un no c'è un c'è un covo cavolo ma che devi ci sono ragazzi ma mi sta prendendo ragazzi si prendiamo si prendiamo si prendiamo non conditi occhio se si prendiamo io ti dammi ragazzi io sono piccola ok ragazzi i secondi stiamo andando sono i secondi c'è anche la seppure portiamo anche la grande vetti rosa si abbiamo vito ecco rosa grande venti se in secondo questo non c'è grande venti c'è certo c'è l'epf speciale venti grazie ora apro due casse attiviamo apro due no ma ok vediamo cosa troviamo in prima niente bobaddino rosa qui uuuh c'è 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 niente rosa ancora niente piet ottimo non so perché ho fosto però ho più brutta vedete perchè mi ha fosto ok ora vedo tante viste come se pianita grande quindici ok belle non c'è la prossima Grazie a tutti.